In collaborazione con Trieste Trasporti, muoviamo persone e idee. Buonasera, ben ritrovati, siamo insieme a Ettore Rosato, ben trovato onorevole. Buonasera, capogruppo del Partito Democratico alla Camera, in questi giorni, quante ore è che non ha dormito? Due giorni, due notti? Sì, abbiamo fatto una tre giorni lunga sulla legge di bilancio in commissione, ma ormai per fortuna abbiamo concluso con un voto anche ad ampia maggioranza e quindi anche la legge di bilancio è legge. Soddisfatto di quelle che sono le previsioni, i saldi invariati? Sì, abbiamo fatto una legge di bilancio che è tutto tranne che preelettorale, tendente a mettere stabilità ai conti e a sviluppare tre cose. Uno, un intervento sociale basato su investimenti nel contrasto alla povertà, interventi sulla previdenza, frutto dell'accordo tra governo e sindacati, per mitigare sempre di più gli esiti negativi della Fornero. Il secondo, quello di sviluppo con gli incentivi per l'occupazione, con una strategia ancora più marcata di sostegno alle imprese che investono. Sotto i 35 anni, giusto? Sotto i 35 anni, per solidificare questa ripresa dell'occupazione, dal governo Renzi è emerso un milione in più di posti di lavoro, però c'è bisogno ancora di fare molta strada. Noi abbiamo comunque aree del paese dove la disoccupazione è ancora troppo forte e soprattutto c'è una disoccupazione giovanile, femminile, su cui bisogna intervenire. E poi c'è stato un importante intervento sul rinnovo dei contratti pubblici e sugli investimenti sulla sicurezza. Due cose che ci stavano a cuore, che abbiamo sviluppato, sia negli interventi nella sicurezza, che vuol dire investimenti sulle periferie, per il rinnovo urbano. Rozzol Melara, che viene... 18 milioni a triestri. 18 milioni a frutto di quell'investimento che il governo Renzi a quell'epoca, e poi proseguito col governo Gentiloni, ha fatto. Quindi un investimento sulla riqualificazione di una periferia, che è anche un investimento sulla sicurezza. Ma adesso ha anche investimenti in continuità, investimenti sulle forze di polizia, anche per il loro rinnovo di contratto, non solo sul potenziamento dell'organico. Insomma, una legge di bilancio che tiene conto della necessità di tenere basse le tasse, continuare sull'abbassamento delle tasse, però fare investimenti su sviluppo e sulla solidarietà. Ha visto adesso gli 80 euro, quindi piacciono sia a Di Maio che a Salvini, dopo tutte queste polemiche... È carino questa cosa, ma gli 80 euro equivalgono a 10 miliardi di euro, che sono stati dati a 10 milioni di italiani, i redditi medio-bassi, che sono stati in sostanza tutti spesi. Perché chi ha un reddito medio-basso e riceve 1.000 euro in più, 960 euro in più all'anno, non è che li mette in cassaforte, li spende. Qualche volta, diciamo, ci paga anche quelle cose che prima erano obbligatorie e non riusciva a pagarle. E queste hanno aiutato anche l'economia a crescere. Perché se tu immetti in un paese 10 miliardi di maggior liquidità, sono 10 miliardi di consumi nel commercio... Si ricrea fiducia. Si ricrea fiducia e si ricrea economia. Si è sottolineato forse volte troppo il fatto che alcuni abbiano dovuto restituire questa cifra. Il saldo tra chi è restituito e chi alla fine dell'anno li ha avuti perché non li aveva percepiti durante l'anno è un saldo positivo nei confronti di chi non li aveva percepiti durante l'anno e alla fine dell'anno li ha ricevuti perché pensava di aver superato la soglia di reddito e invece non l'ha superata. Più le persone, le famiglie che li hanno ricevuti in aggiunta rispetto a quelli che hanno dovuto restituire. Assolutamente, assolutamente. Comunque poi quando si dà uno scaglione di reddito è chiaro che c'è sempre uno sfasamento alla fine dell'anno. Poi bonus bebè. Bonus bebè ma poi soprattutto io direi dal 2019 l'aumento della soglia per i figli a carico a 4 mila euro. Altra cosa importante per avviare ancora di più i ragazzi al lavoro. Per renderli più autonomi e per dare una maggior sicurezza alle famiglie. Anche sulla famiglia abbiamo fatto un investimento importante in questa legge di bilancio. E poi la continuità sugli investimenti sugli asili nido. Abbiamo messo 150 milioni per l'assunzione di nuovo all'anno, per l'assunzione di nuovo personale nelle scuole. In particolare sulla fascia dei bambini più piccoli. Quindi un investimento che cerca di dare una risposta a un paese che comunque per fortuna ha una ripresa economica. E questa ripresa economica va investita in migliori servizi. Senta, lei ha definito una legge di stabilità non elettorale. Non da campagna elettorale che sta iniziando. Mi sembra la stessa definizione che lei diede qualche settimana fa del Rosatello Unbis. Sì. Della legge elettorale pensata da lei, gradita poi di fatto da tutti i partiti. Quasi tutti. Quasi tutti, a parte i 5 Stelle. Diciamo che loro la gradiscono senza dirlo. Però sembrava, e ne parlavamo già altre volte, una mossa quasi negativa per lo stesso centro-sinistra. Cioè una legge elettorale che non vi premiava. E lei utilizzò una definizione simile, avete visto? Quando facciamo una legge elettorale non ce la facciamo per noi. Adesso, passate qualche settimana, viste le proiezioni, i disegni, i sondaggi, che idea ha? Ma io penso che noi abbiamo fatto quello che un partito di maggioranza con senso di responsabilità deve fare nel confronto del suo paese. Avevamo un paese senza legge elettorale, frutto avevamo una cosa... Perché ci si trova tardi poi, no? Sempre però... Ma certo, però c'è stato un iter. Noi avevamo fatto la legge elettorale, c'è stato il 4 dicembre dove è fallito il referendum. Il referendum ha dato un esito che ha fatto archiviare le riforme costituzionali che erano state fatte. Che ci vuole del tempo per ripartire. La legge elettorale che avevamo fatto era fatta per un'unica camera elettiva, quindi di conseguenza la Corte Costituzionale ha deliberato che quella legge elettorale fatta per un'unica camera elettiva non andava bene con un sistema in cui da una parte c'era il ballottaggio, dall'altra parte c'era un proporzionale puro. Quindi abbiamo dovuto rifare la legge elettorale. Poi non racconto l'iter che ha visto anche momenti molto contrastati con alcuni partiti. Poi siamo arrivati a una legge elettorale che è un mix. Un sistema in un Parlamento dove solo il Partito Democratico praticamente voleva un sistema maggioritario insieme alla Lega. Tutti gli altri... Sì, anche Berlusconi lo disse, era per il proporzionale. Il proporzionale al 100%. Noi abbiamo introdotto un pezzo di maggioritario che aiuta la governabilità in un sistema proporzionale. 36% di maggioritario e il resto proporzionale. Con un richiamo ai collegi e quindi diciamo a un rapporto più stretto tra elettore ed eletto. Ecco, io penso che sia una legge elettorale equilibrata dove alla fine anche le ultime espressioni della Corte Costituzionale, almeno nelle prime espressioni sui ricorsi che sono stati presentati, ha dichiarato che non ci sono elementi di incostituzionalità di cui invece era stata accusata. È una legge che consentirà di avere delle elezioni ordinate. Poi è chiaro che con tre poli che si contrappongono, con due Camere che danno la fiducia, con due platee diverse perché alla Camera votano 4 milioni e mezzo in più di italiani che al Senato, è difficile che sia garantita la governabilità. Noi abbiamo fatto una legge che la favorisce, la favorisce il più possibile. Però la voce che ormai abbiamo sentito da più parti e che girerebbe a Roma è quella di una doppia tornata elettorale. Le dico cosa abbiamo sentito, poi mi dirà che cosa ne pensa. Si va a votare adesso, i primi mesi sono il 4 marzo, ormai quasi ufficiale, non succede granché e il rischio è che si torni a votare prima dell'estate, durante l'estate. È fantascienza? Cosa le dici? Guardi, non le dico quello che succederà, le dico quello che è successo. Si ricorda cinque anni fa, si diceva la stessa cosa, non c'è una maggioranza, si va a votare. E invece cosa è successo? È successo che il partito che aveva numeri più grandi in Parlamento, in quel caso il Partito Democratico, ha costruito le condizioni per sfidare gli altri su una base programmatica. Gli abbiamo sfidati e abbiamo costruito un governo che è durato tutta la legislatura. È evidente che per fare questo ci vuole un partito che sia abituato a dialogare. Quindi noi abbiamo la convinzione che la prossima... Quindi non i 5 Stelle per intenderci. Ma i 5 Stelle dicono sempre che loro sono da soli, sono puri e non vogliono parlare con nessuno. Secondo me parlano abbastanza con Salvini, però questo è una cosa che loro... Cioè può essere che all'indomani del 4 marzo si mettano a dialogare 5 Stelle e Lega? Io penso che invece... Questa è una possibilità. Io penso invece che ci sono anche le condizioni per fare dei risultati che sono oggi inattesi. Io leggo sempre con grande attenzione i sondaggi perché sono comunque ricognizioni che aiutano a capire che cosa succede. Però leggo le stesse cose che leggevo prima delle europee. Prima delle europee si dava per scontato che i 5 Stelle avrebbero battuto tutti. E invece andò in maniera diversa. Fu il PD a fare un grande risultato. 40.8. 40.8. Io adesso non dico che siamo nella stessa situazione, ci mancherebbe altro. No, anche perché i sondaggi non danno il paese mano al centro-destra, darebbero con questa proiezione. Ma sì, darebbero un paese umano al centro-destra dove c'è la Lega che dice una cosa e Berlusconi che dice l'altra. Fratelli d'Italia una volta dà ragione uno, una volta dà ragione all'altro. Però c'è una grande frantumazione in quella coalizione lì. Noi invece io credo che abbiamo bisogno di un governo che abbia un'idea coesa per governare questo paese. E io penso che noi siamo la coalizione che la rappresenta meglio. La rappresenta meglio in una logica anche di continuità rispetto a alcune delle riforme fatte. E anche di discontinuità prendendo atto di alcune cose da migliorare che si sbaglia sempre quando si lavora. Solo non facendo niente non si sbaglia. E noi di errori ne abbiamo fatti e questi errori ci servono per capire come proiettarci anche sul futuro. E' vero che questo attacco continuo nei confronti di Renzi e Boschi potrebbe in qualche maniera essere zittito e annullato da un provvedimento, da un'idea, diciamo. Un cambiamento che arriverebbe nel brevissimo periodo, nell'attimo, avrebbe un effetto immediato. Cioè basterebbe che Renzi, dopo il 4 dicembre, dopo tutto quello che è successo, dopo la guida del partito che ha ripreso in sé, dicesse che vedo che il paese forse mi preferisce Gentiloni sia lui. Un po' quello che tra l'altro ha detto Berlusconi se non c'è un risultato chiaro. Pensa che questo potrebbe far riconquistare anche a Renzi una credibilità o apprezzamento che negli ultimi mesi può aver perso. Io penso questo, che bisogna essere trasparenti e leali con gli elettori e noi lo vogliamo essere e lo siamo. Il nostro partito ha un segretario che peraltro è stato legittimato ed è un segretario che ha una maggioranza solida all'interno del partito. Però abbiamo una squadra, non c'è un uomo solo al comando. Cioè in questo paese ci sono tre grandi partiti, Forza Italia, il Movimento 5 Stelle e il PD. Forza Italia ha un proprietario da circa 20 anni, in 1994, il proprietario è un proprietario, lui è il proprietario, titolare. Non è che si fa un congresso in Forza Italia per stabilire se viene Berlusconi o Ghedini, al massimo si sceglie chi è l'assistente di Berlusconi, questo è Forza Italia. C'è un altro partito che si chiama Movimento 5 Stelle che ha un altro proprietario, il simbolo di proprietà di una società dove c'è Grillo, credo suo nipote, il suo commercialista, non lo so chi, ma insomma una famiglia ristretta che nomina tutti quelli che hanno una responsabilità e poi c'è il PD. Il PD non ha un proprietario, c'è stato il PD di Veltroni e tutti dicevano che era il PD di Veltroni, poi è arrivato Bersani e c'era il PD di Bersani, tutti dicevano che era di Bersani, è arrivato Renzi e poi è diventato il PD di Renzi. Ognuno di questi poi aveva una minoranza interna molto... Assolutamente, sempre molto accesa, è il partito democratico dove c'è una dialettica e non c'è una leadership di proprietario. E' naturale che il segretario sia il candidato... No, voglio dire un'altra cosa, si immagina se anche il PD avesse questa stessa natura di questi due partiti con un proprietario, cosa sarebbe della democrazia nel nostro paese? Tre partiti che hanno tre proprietari, una roba da ex paesi dell'Unione Sovietica per essere chiari, invece noi abbiamo una dialettica e una dinamica, ma soprattutto abbiamo una squadra. Non abbiamo un uomo solo, abbiamo una squadra, plurale, c'è Gentiloni, ci sono i ministri, c'è Minniti, c'è Franceschini, c'è Orlando, ci siamo tanti dirigenti nazionali e questo consente a dire che non è che si vota per Renzi, si vota per il PD nel suo pluralismo. Gentiloni fa il Presidente del Consiglio, lo fa bene, lo sta facendo, nessuno mette in discussione, l'abbiamo sostenuto in tutte le sue scelte, anche quelle che qualche volta succede e non condividevamo. Ne ricordo una per tutte, la conferma di Visco a fare il governatore della Banca d'Italia, l'abbiamo sostenuto nonostante io personalmente, Renzi, avessimo un uomo. A proposito, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche è stata, secondo lei, una gran passerella elettorale o darà degli effetti in queste ore? Ma diciamo che ha... O è stato un modo in realtà, di cui altri hanno approfittato, per indebolire fortemente lo stesso PD e la Boschia? Può darsi, anche questo c'è stato, certamente, perché c'erano due interessi. Uno era l'interesse di capire cosa è successo nel sistema bancario, di capire quali sono i difetti sulla vigilia, di vigilanza, di quali sono stati i motivi per cui milioni di risparmiatori hanno messo a rischio i loro risparmi e migliaia di risparmiatori li hanno persi i loro risparmi. Certo, Presidente, però poi arriva Zonin e dice non sono un ricordo. E' un genio. E' popolare di Vicenza, non è tenuto a rispondere... E' un genio, Zonin, è un genio. Un genio. E' un genio. Del male, diciamo, in quel senso. E' un genio, perché uno che non si ricorda niente di quello che ha fatto è veramente un genio. Io però penso che ci sono molti risparmiatori della sua banca che si ricordano quello che ha fatto, che si ricordano le sue esortazioni in assemblea a sostenere il suo mandato o a sostenere la sua linea. E' quello che ha provocato questo. Io penso che noi abbiamo fatto la commissione d'inchiesta per questo, per entrare nel merito di queste vicende. E sono immerse le contraddizioni della Banca d'Italia, della Consob, dei sistemi di vigilanza, dei presidenti che non ricordano quello che hanno fatto, pur avendo gestito un potere immenso. E poi c'è stato chi invece ha utilizzato questa commissione unicamente per parlare della Boschi. Ci sono partiti che non hanno più un programma elettorale. Si svegliano la mattina e parlano della Boschi. Si addormentano la sera parlando della Boschi. Che, vi assicuro, non è il problema del nostro paese. Non è il problema del nostro... E neanche il problema del nostro sistema. Però arrivati a questo punto, secondo lei, è opportuno che si ricandidi Maria Anna Boschi? Ma assolutamente, io sono convinto che Maria Anna Boschi sia una persona per bene, che abbia fatto il suo dovere. Ognuno di noi può dire se era opportuno o non opportuno, ma io mi metto nei suoi panni. Dico, se ci fosse una banca qui a Trieste, di sistema, di sistema, perché Banca Etruglia d'Arezzo è una banca di sistema... Lei, Ettore Rosato, incontra qualcuno, dice a Roma, che facciamo di quella banca lì che so che è messa a maluccio? Io sono un uomo che ha delle responsabilità. È un rapporto col territorio, no? È un rapporto col territorio, ho delle responsabilità. Chiedo a chi sta guardando o visionando un dossier per salvare la banca del mio territorio, scusa... Come siamo messi? Come siamo messi? Non ti spingo a fare qualcosa, ma scusa, come siamo messi sulla banca del mio territorio? Perché non passa questo segnale? Perché è andata così, in effetti. Perché c'è un equivoco, c'è un equivoco di fondo, su cui non si può mettere la testa nella sabbia, che in quella banca, nel Consiglio d'amministrazione, pur senza deleghe, pur da pochi mesi, c'era suo papà. Ma quella è una banca popolare, non era la banca della Boschi. È una banca popolare di migliaia e migliaia di risparmiatori, dove nelle dinamiche territoriali, perché così è, nelle dinamiche territoriali è stata presa una persona, è stata messa a fare lì... Che non passa il segnale del commissariamento che Renzi è mandato a casa? Abbiamo commissariato, multato, abbiamo multato il papà della Boschi, l'abbiamo commissariato, esautorato, lo ha fatto il nostro governo, abbiamo riformato le banche. Secondo lei non si riesce più a... Ma io confido... ...intrecciare con il paese su questo, perché questi segnali non passano. Io confido nell'intelligenza delle persone. È chiaro che fa più rumore, ma ci sono i grillini, il tema delle fake news, dove mostrano la foto della Boschi al funerale di una vittima e lo dicono che sta al funerale di Riina. Quella roba lì entra nelle case, perché è più facile, è più volgare, i messaggi più volgari, i messaggi più falsi penetrano con maggior velocità. Non c'è niente da fare, però c'è l'intelligenza degli italiani, che dopo sanno fare un distinguo. C'era anche Renzi a bordo della Lamborghini, a Ibiza, cosa che l'aveva pubblicata lui, ovviamente smettendola. Io ho mandato un messaggino l'altra settimana dove mostravo il suo yacht con 24 persone di equipaggio, che c'era, ma aveva migliaia di condivisioni. A noi fanno sorridere, però è vero che è un tema, è un problema, perché molti possono credere a tutto questo. È frutto forse di quello che è stata la politica anche negli anni passati, decenni passati, le lotte contro la casta. Non so, sì, tutto vero. Io sono uno di quelli che si è alzato in aula e ha fatto la dichiarazione di voto per l'abolizione dei vitalizi. Legge Ricchetti. E la Camera dei Deputati ha approvato quella legge. Non avevo tutto il gruppo del PD entusiasta. Però non è passata, definitivamente. Non è passata, ma io sono convinto che noi abbiamo fatto una cosa giusta. e sono convinto che bisogna dare anche, non dare dei segnali, perché non bisogna dare dei segnali, bisogna fare delle scelte. E noi l'abbiamo fatta. Dopodiché, devo dire che su questo c'è stata solo la nostra posizione accanto a quella del Movimento 5 Stelle. Tutti gli altri, compresi chi sta alla nostra sinistra, hanno votato contro. Presidente, ci fermiamo un minuto. Abbiamo una pubblicità brevissima, poi ricominciamo da qui. Abbiamo molti altri temi, anche il futuro di Deborah Seracchiani, della Regione Frivenezia Giulia. A tra poco. Torniamo in diretta insieme a Ettore Rosato. Volevo capire, avete deciso o no? Ha scelto. Si candida in collegio Frivenezia Giulia? Ma vedremo, è prematuro. Poi noi sul serio c'è un ragionamento collegiale. C'è anche Deborah Seracchiani nelle sue zone che ha scelto di non ricandidarsi presidente Frivenezia Giulia e di spendersi a Roma. Sì, ma c'è compatibilità nei nostri percorsi. ma decideremo insieme, decideremo in direzione nazionale, faremo le scelte che vanno fatte qui. Devo una previsione. Jacopo al Senato di Udine, Ettore Rosato, anzi, sì, Deborah Seracchiani. Senato, esatto. Deborah Seracchiani alla Camera, invece il Collegio di Udine, Ettore Rosato, Camera di Trieste. Io comunque prediligo nell'essere candidato nella mia regione. Nel suo territorio. Nel suo territorio. Questa già è una notizia. Poi vedremo le necessità anche del partito, faremo un ragionamento complessivo. Perché Deborah Seracchiani non resta qui a accogliere i frutti e anche le osservazioni di quelli che sono stati cinque anni alla guida di questa regione? Io penso che ci sia un senso di grande responsabilità nel dire io ho dato il massimo che potevo dare. Ho dato una grande spinta a questa regione. Io lo dico con grande serenità. Questa regione ha beneficiato del lavoro di Deborah Seracchiani. Ricordava i tempi positivi e buoni del lavoro di Riccardo Illi che c'è stato in questa regione. Deborah ha avuto la capacità di dialogare molto con il governo. Abbiamo costruito dei ponti solidi che hanno consentito di fare scelte che hanno dato una mano a questa regione. Ultimo anche l'accordo di qualche giorno fa che verrà firmato in queste ore che è stato recepito nella legge di bilancio nell'accordo di rinnovo del patto regione-stato. Seracchiani-padoano, giusto? Sì, certo che è un apporto importante di risorse economiche. Ma poi gli interventi che sono stati fatti sul porto. Il porto di Trieste ha avuto quello che non ha mai avuto nella sua storia. Con il regime di punto franco esigibile, con investimenti importanti, con un'attenzione garantita anche da un ottimo presidente dell'autorità portuale che ha costruito intorno a sé una squadra, che ha saputo rilanciare lo scalo. Insomma, siamo diventati il primo porto nazionale. Si ritorna a pensare in grande. Possiamo costruire anche, io penso sempre, che noi dobbiamo costruire una collaborazione più forte con il vicino Veneto. Anche in termini di logistica, di portualità, non c'è concorrenza. Il mare Adriatico, visto dalla Cina, è un piccolo lago. Ci considerano un piccolo lago. E dalla Cina siamo tutti Venezia. Senta, onorevole proposito del Veneto. Luca Zai ha soltanto pochi giorni fa era di nuovo a Roma per incontrare Gian Claudio Bressa, quindi positivo. Adesso chiede, miliardo, Roma, vabbè, per altri investimenti, tema sanità. Ma si sta iniziando a lavorare sulle cinque materie delle 23 che vuole per l'autonomia. È troppo, secondo lei? Vuol dire non ottenere niente? Su questo Zai non si muove tanto. Ma la preintesa, intanto, su queste cinque, arriva? Allora, io penso che non sia troppo. Che si sia cominciato molto, molto tardi. Zai non fa il governatore da ieri. Zai ha aspettato la fine di questo governo per intavolare una discussione. Però voleva il risultato del referendum. Lei dice che poteva farlo prima. C'era l'unanimità in Consiglio regionale. Bastava fare una mozione che durava un'ora e che risparmiava, peraltro, qualche decina di milioni di euro. Cioè, non andare al voto. Non andare al voto sul referendum. L'ha voluto fare per un fatto politico, non per un fatto procedurale, neanche per un fatto di legittimazione. Perché nessuno in Veneto gli avrebbe detto no, non andare a Roma a chiedere maggiore autonomia. È stata una questione di campagna elettorale. Rispettabile, perché ognuno fa le sue scelte, però, assolutamente, ne paga le conseguenze la Regione. Perché un anno fa, anche solo un anno fa, noi avremmo potuto recepire quell'accordo che il governo ha sempre detto che era disponibile a scrivere. Insieme alla Regione l'avremmo recepito in legge di bilancio. Però, secondo lei, non c'è un peso maggiore arrivare con 2 milioni e 400 mila veneti che dicono sì, vogliamo l'autonomia, no? Assolutamente no. No, bastava. C'è un peso maggiore. Nessuno nega il valore del confronto referendario. Ma se c'è l'unanimità del Consiglio regionale, che rappresenta. Dopodiché avevi un contrasto, avevi uno scontro. Potevi allora richiamare l'attenzione del popolo veneto, ma su un no, non su un sì. Quando il governo ti continua a dire sì, facciamo, sediamoci intorno al tavolo, e tu dici no, non mi siedo perché devo fare prima il referendum, dopo arrivi a camere sciolte a pretendere di fare tutto. Ecco, io penso che su questo Zaia abbia giocato sulla pelle dei veneti una battaglia tutta elettorale. Era più serio. Per fare cosa? Ma questo lo sa lui. Io dico che non ne valeva la pena. Su questo tema, su altri temi, ci può essere una divisione, di vedute tra la Lega e il centro-sinistra. Ma proprio su questo tema qui, su questo tema qui c'era una convergenza, c'era una sinergia, c'è una sinergia. Quindi si poteva lavorare, è chiaro che sono temi delicati. Prima domanda, Per intesa, arriva o no? Questo dipende da... Perché in teoria sia Gentiloni che Abressa, ovviamente poi il sottosegretario Bareta, altri hanno confermato. Ma io penso che ci sono tutte le condizioni per farlo. Io non sono seduto a quel tavolo, quindi non posso dire se arriva o non arriva. Io dico che ci sono tutte le condizioni, la volontà del governo per farla arrivare, è chiaro che ci sono delle valutazioni economiche. Il giorno dopo, dovesse esserci un governo di centro-sinistra ancora, si porta avanti questa trattativa? Assolutamente sì. Lo abbiamo detto con grande convinzione. Noi siamo... L'abbiamo scritto anche nella riforma della Costituzione, che poi è finita come è finita. Ma noi abbiamo scritto che le regioni virtuose, tra cui il Veneto... Lui diceva che riduceva le competenze da 23 a 9 per le regioni, però, eh? Zaia. Sottolinea spesso questo. Sì, lui sottolinea spesso questo, ma non sottolinea. Intanto perché mi spiega a lei a cosa serve la formazione professionale, diversa tra il Veneto, l'Emilia-Romagna e la Lombardia. Cioè, in tre regioni, una grande azienda che ha tre sedi, a me capita spesso... Impazzisce solo per la modulistica diversa. Altro è invece l'esercizio delle competenze. Per le regioni virtuose, una regione virtuosa, come può essere il Veneto, ha diritto a esercitare le competenze, perché, diciamo, la assolve con meno risorse e migliora il risultato. Questa è la logica che deve starci dietro. Non una divisione delle competenze parcellizzate, dove ogni regione ha il suo ufficio a Shanghai a fare la promozione turistica. Quello è spreco di soldi pubblici. Altro è l'esercizio sul territorio di delle competenze che possono essere esercitate meglio. Su questo piano io sono convinto che noi possiamo fare bene le cinque questioni richieste dal Veneto e possiamo fare bene anche altre questioni che oggi non sono sul tavolo. Quindi, di fatto, lei dice che le 23 sono troppe. No, non lo dico. Bisogna esaminare punto per punto le questioni. Non c'è una risposta politica preventiva. Non c'è un no preventivo su nulla. C'è un sì motivato da un piano serio. Cioè, io voglio esercitare la competenza completa sulla sanità per fare che cosa? Spendo meglio i miei soldi. Come? Non è che sulla sanità il Veneto fa tutto bene. Non è che tutto funziona bene in sanità. Non è che le liste d'attesa in Veneto non ci sono. Allora, si dimostri che con una gestione più ampia c'è un miglioramento della qualità del servizio perché lo Stato non deve darglielo. Io sono convinto di questo. Senta, ultimi minuti. Volevo tornare invece a Deborah Seracchiani. Di fatto si è chiuso il dibattito che poi è continuato sui giornali in aula ma con poco esito se non con un tentativo di pungolarvi. Parlo di Election Day. Quando lei fece quell'intervista di fatto da lì abbiamo capito come di Election Day in Florence Journal non si poteva parlare. Cioè si va a votare il 4 marzo per le politiche nazionali perché non abbinare il voto delle regionali che probabilmente sarà a fine aprile. Perché? Ma intanto per tradizione questa regione l'ultima volta è stato proprio il centro-destra a non volerlo abbinare. Tondo vi risponde perché io dovevo togliere dieci scranni del parlamentino. Cioè ci sarebbero stati dieci consiglieri in meno quindi c'erano tempi tecnici d'attesa per il passaggio in aula. Mi sembra che quei tempi tecnici sono stati un po' gonfiati ad arte per ottenere questo risultato. Però l'Election Day ci sarà lo stesso. Se non si fa l'Election Day con le politiche ci sarà l'Election Day con le amministrative che in questa regione ha anche molto più senso. Si vota il Comune di Udine si vota in tante realtà. Quindi un Election Day ci sarà comunque. Si tratta di scegliere quello che ha una logica maggiore. Io dico con grande franchezza una cosa. Noi andiamo a votare con una legge elettorale per il Parlamento nazionale nuova dove non c'è il voto disgiunto dove non ci sono le preferenze tutte cose che invece si interecciano male con la legge elettorale regionale. Quindi io penso che l'elezione delle politiche io ritengo che debba essere sempre più possibile distinta dalle altre tornate elettorali. Soprattutto se si può fare un abbinamento Perché c'è un effetto traino in tutti e due casi. Perché sono modelli diversi. Noi diamo per scontato perché noi passiamo le giornate sulla legge elettorale, sui dettagli, sulle cose. Dopodiché i cittadini non hanno tutto questo meccanismo come funziona. Quindi possono comunque essere influenzati da quello che è il dibattito nazionale. I modelli elettorali sono diversi. Boschi può influenzare se noi mettiamo insieme il voto nella testa delle persone. Boschi influenzerà nelle elezioni regionali e nelle elezioni politiche alla stessa maniera. Perché non è che dopo il 4 marzo di Maria Elena non si parla più. O non si parla più di Etruria o non si parla più di quello che vuole lei. Il dibattito nazionale sarà sempre questo. Dico semplicemente che essendo una nuova legge elettorale con un sistema completamente diverso che parla di collegi noi dobbiamo concentrare e lasciare che i cittadini si concentrino sulle elezioni politiche. A mio giudizio delle elezioni molto importanti. Dopodiché se mettiamo insieme e quindi il risparmio si ottiene ugualmente le elezioni regionali con le elezioni amministrative facciamo un lavoro che possa essere altrettanto utile. Dico questo, poi naturalmente spetterà la regione in accordo con lo Stato decidere quali sono le esperienze. È la finestra di tempo invece che vi aiuta nel trovare un dialogo vero con MDP poi? Dopo le elezioni nazionali verso le politiche? Io non so se esiste una finestra di tempo sufficientemente ampia per trovare un dialogo con MDP. Ci conto però mi sembra che potremmo dilatare un po' troppo i tempi per questo. Grazie Ettore Rosato. Grazie a lei. Auguri e arrivederci. Grazie per aver chiacchierato con noi questa sera e a voi per averci seguito. Buona serata. In collaborazione con Trieste Trasporti Muoviamo persone e idee Grazie a tutti.